la carne di vitello per le sue caratteristiche di tenerezza morbidezza e digeribilità è una delle più adatte ad alcune categorie di persone specialmente quelle più fragili come anziani e bambini queste persone infatti hanno difficoltà di masticazione di gestione assorbimento e la carne di vitello viene proprio incontro a queste esigenze rilasciando tutti i suoi nutrienti in modo molto semplice e veloce contiene tutti gli amminoacidi essenziali quindi proteine nobili tutte le vitamine del gruppo b essenziali per la crescita e minerali ad elevato assorbimento come il ferro lo zio il selenio il rame e ha pochissimi grassi questo infatti la rende anche una delle carni preferite dagli sportivi perché contiene proteine pure subito disponibili e anche per il suo contenuto di carnosina carnitina e creatina che fortificano la massa muscolare aiutano nel recupero della fatica fisica quindi una caratteristica molto voluta in chi fa sport è una carne molto interessante anche per le donne in gravidanza per il suo contenuto in colina e acido lipoico e soprattutto per la vitamina b12 che aiuta lo sviluppo cerebrale del nascituro per il suo sapore tenue è una carne che si presta tantissime preparazioni culinarie perché un'ottima base da insaporire quindi via libera meravigliose tartare oppure anche il classico vitello tonnato che oltre ad essere un abbinamento gustoso e anche un abbinamento funzionale